L'alchimia era una disciplina trasformativa. Si occupava di cambiare i metalli negativi, come il piombo, in qualcosa di positivo, ovvero l'oro, il metallo prezioso per eccellenza. Nella parola stessa alchimia sono contenuti i significati di fondere, colare insieme, saldare. Queste sono le immagini e i concetti a cui si ispira la collezione 2023 di Promemoria. C'è qualcosa di alchemico e magico che passa dalla mente e arriva alle mani, dal progetto alla sua realizzazione. L'idea di questa magica alchimia nasce proprio dal voler miscelare le materie per far sortire, come nell'alchimia, dei nuovi prodotti o delle nuove idee o delle nuove basi di partenza. Siamo contenti perché tutti questi prodotti sono nuovi nel loro essere, nelle loro dimensioni, sono nuovi nel tatto, pur mantenendo la familiarità con l'idea di Promemoria. Una lavorazione che agisce sui materiali, legno, vetro e metalli, trasformandoli in pezzi unici. Quest'anno sono partito da uno studio di materiali diversi, ho lavorato molto col vetro, con le fusioni di bronzo. Ho fatto questa collezione, soprattutto i tavoli, i tavolini, le lampade, utilizzando un vetro che non è murano, ma è un vetro normale da un centimetro o quattro millimetri, fuso a forno, quindi una stratificazione di vetri colorati, bronzati, che hanno portato a questi effetti molto materici e molto naturali. Sono nate dall'idea di sfruttare la trasparenza del vetro e quindi la trasmissione della luce attraverso questa forma che dopo la fusione non è più una forma, diciamo, precisa. Accoppiamenti, relazioni, associazioni, alchimie. Il design di Promemoria opera sulla materia, dandole una forma che prima non aveva, la trasfigura, le conferisce ritmo e calore. Quello che sto toccando è un tavolo in fusione di bronzo che viene fuso a mano nella terra come una volta e naturalmente non ci sarà un doppione, ognuno sarà diverso. Oltre al bronzo abbiamo lavorato naturalmente al legno e naturalmente ai divani. Ai divani abbiamo costruito intorno a un tessuto il divano. Abbiamo scelto forse prima il tessuto e poi abbiamo creato il divano. L'idea è sempre quella di continuare a miscelare e cambiare i prodotti. Miscelare vuol dire essere sorpresi per un prodotto, per un prodotto naturale e dire come facciamo a reinventare questo prodotto naturale, come se fosse un intreccio. La produzione delle opere di design avviene nella cornice di Val Madrera, un piccolo borgo sulle rive del lago di Como, dove affonda le sue radici l'azienda di famiglia. Lì hanno preso forma l'amore per il dettaglio e la maestria artigianale, tramandata per tre generazioni fino alla fondazione di Promemoria. Qui dentro è come se fosse un grande palcoscelico, dove c'è lavoro, sudore, ma anche gioia. Gioia di lavorare in un bel ambiente, gioia di lavorare con sorriso. Questo è quello che mi piace, che mi affascina nel proseguire il mio compito, il mio lavoro di imprenditore. Grazie a tutti.